su red carpet di una poltrona per due mille da braccio fantasticamente fantastica mitica e famosa per essere un mito tra i miti semplicemente con noi la donna più solare dell'intero sistema solare con lei che ad oggi è l'unica che ci manda in orbita parecchi per lei pronti al fattaccio si segga in poltrona mille da braccio ciao buonasera mille sei bellissima te lo volevo dire subito stupenda poi questo nuovo look ti piace bellissima molto catrinsa da johnson in chicago bellissima veramente complimenti la presentazione pazzesca devo dire mi ha emozionata mille senti subito una domanda ma sei singola o fidanzata lo vogliamo sapere no single si i rapporti lunghi non non ti piacciono tanto bello sarà contento il nostro renato perché sai noi abbiamo un nostro sondaggista qui che è renato on salti che è un tuo fan spiegata veramente si si vuoi provare sono single ma sono difficile io vorrei sentire invece cosa ne pensa il nostro salvatore che è il nostro esperto di look d'immagine grazie signora d'abbraccio buonasera buonasera ecco spero vorrà seguirmi in quello che ho da dirle sì intanto ritengo la sua figura nell'insieme assolutamente priva di volgarità perché l'unica cosa che può rendere una donna volgare e lo sguardo il suo invece è uno sguardo puro è uno sguardo che a me piace guardare e tra l'altro ha un sorriso che conquista tutti noi ed una sana dentatura americana da spot mi preme dirle adesso mi preme dirle adesso che l'ho osservata con molta attenzione durante il red carpet nonostante i fattori genetici e di salute fino al di là della nostra capacità di controllo e della nostra conoscenza possiamo fare molto per noi stessi a fine di creare vitalità e benessere durevoli nel tempo è ampiamente provato come la riduzione dell'uso porta a cambiamenti strutturali nelle articolazioni nei muscoli e in altri tessuti molli cambiamenti che finiscono per ridurre la gamma di movimento ciò innesca un circolo vizioso che limita ancora di più i movimenti coloro che usano il proprio corpo in maniera globale hanno maggiori probabilità di conservarne la mobilità per tutta la vita e lei questo ha fatto tutto questa roba non percorrendo un semplice sì ebbene sì signora d'abbraccio non percorrendo un semplice tappeto rosso ma addirittura impadronentosene con assoluta eleganza consapevolezza e soprattutto gioia di vivere millie senti la tua popolarità ha abbarcato i confini dell'italia tu sei diventata una star anche all'estero perché i tuoi film sono stati venduti anche in europa in germania in francia in spagna insomma un po dovunque e tutto questo clamore questo questo successo con i tuoi film tu te l'aspettavi ma beh un po sì essendo una fila d'arte comunque una persona con delle grandi capacità sia ganorie artistiche di attrice perché ho fatto cinema teatro televisione e forse lei direttamente no cara signora d'abbraccio se mi permette il bisogno emergente della società per sua natura sesso dipendente fallocentrica palesa la classica visione filo uterina che aspira a ricondurre tutte le donne a singole unità esplicitando a monte le discretie esistenti tra chi fruisce liberamente delle gioie del sesso e chi invece si subordina a cilicio per ogni pulsione sottraendosi alla stessa natura umana è vero è vero però questo valentina maggio ecco la nostra esperta di sociologia ha ragione però effettivamente gli etero sono così quindi gli etero vogliono questo vogliono questo questa tipologia di femmina di donna e io sono diventata quello che l'etero vuole in quel momento ho deciso di prendere un ruolo e di farlo mio e di dire questo vuole l'uomo da me la società vuole questo che mi ricordo diventi porno diva che vada sui set che prenda tanti uomini contemporaneamente che si faccia prendere di qua e di là io sarò quello che loro vogliono quindi però vedi c'era c'era una motivazione per cui sono finita nell'ardo perché io amo il sesso capito e quindi diciamo che poi mille strepitoso oggi mille ora abbiamo la nostra vorrei far parlare la nostra federica quaglieri che è la nostra esperta di mantra tantra e bretarianismo come dice lei bret che lei ci tiene molto e quindi ha preparato una scheda su di te quindi sono molto curiosa intanto sono felicissima di conoscere grazie poi dopo un'attenta lettura della tundra canadese io ho rilevato che mille è un veicolo altissimo seppur inconsapevole del bretarianismo o più semplicemente del bret che la colloca a livello più alto dopo gli scritti di mons e le visione di tog si tratta in realtà di un si tratta ora glielo spiego perché è un pensiero che sta nascendo è una teoria che si basa sul fatto che ci si possa sopravvivere soltanto nutrendoci del proprio respiro che non significa assolutamente vivere d'aria significa invece mettere in atto in pratica una pratica respiratoria che lavora a livello energetica che mantiene vivi e sempre attivi tutti i tessuti del nostro corpo quando si fa l'amore non si respira esattamente anche in quella e la rinasci la rinasci lei ha ragione però non solo cioè è una cosa che riguarda tu cur la vita e anche se i nomi possono sembrare abbastanza scomodi per noi non è un'invenzione tanto che ci sono degli asceti che fanno parte di alcune categorie più che altro orientali che la praticano correntemente per periodi più o meno lunghi e io assicuro che c'è veramente poco da ridere perché la ciba matrigna per noi in realtà non è altro che un retaggio al primitivo che ostruisce le vie attraverso cui dovrebbe passare l'energia pura per cui cibarsi uccide il nostro io e in pochissimi riescono ad emergere e secondo il mio modesto parere degli studi invece la signora mi lì c'è e questa è una grossa conquista per cui se lei vorrà io poi in privato sarò poi lieta di darle tutti quanti i ragguagli del caso. Sesso tantrico? Sesso tantrico ne possiamo parlare a voce ma dopo anche perché io so che qui ci sono delle perplessità non ultima la nostra Ludovica sì ha molti dubbi in merito. Ora però vorrei dare la parola al tuo fan al nostro sondaggista Renato Ansaldi. Renato oltretutto lui ha la collezione intera dei tuoi film quindi è preparatissimo sulla tua carriera veramente. Renato non ti arrabbiare lo dovevo dire ma ormai l'abbiamo detto che sei un fan. Ah mi devi dire un titolo. Signorina desidero che il mio personale non venga esposto così in questa maniera. Sono qui per rendere un servizio non per espormi nelle mie debolezze da uomo. Ci siamo partiti per la prossima volta. Ti ha dato anche una chance alla nostra Millis. Vabbè però non è giusto. Però un titolo me lo puoi dire. Adesso sentiamo i sondaggi. Comunque parto con il sondaggio. Abbiamo chiesto ad un campione di mille persone Wow. Per quali lavori artistici, televisivi, teatrali, cinematografici e musicali ricordate i milli da braccio? Wow. Il 2% non ricorda affatto milli da braccio, per cento alle bassine legata certamente alla giovane età di carriera. Ah quella è la cosa libera. Il 10% per i film vediamoci chiaro accanto a Gioni D'Orello. L'ho visto. Il 13% a pari merito per Paolina borghese, ninfomano imperiale. Wow. E tabù di una moglie perversa, ovvero Molli Pierre. Porca e scatenata. L'ho visto. L'ho visto. L'ho vinto. L'ho vinto. L'ho vinto. Il 20% per Meglio baciare un cobra. Il 25% per il film La trasgressione su sceneggiatura di Pierfrancesco Campanella. Ah sì? L'ho vinto. Ed infine il 30% per il film L'Avvocata del Diavolo, arrivato ad oltre mezzo milione di visualizzazioni su YouTube. Wow. Eh vabbè ma parliamo di sesso puro quello. Ah sì? Se vogliamo interpretare questi dati? È bene sottolineare come vi sia un palese equilibrio di popolarità tra la riconoscibilità dei lavori della giovane Milli da quelli della Milli attuale. In pratica la gente sembra non fare alcuna differenza come se la sua figura fosse entrata di diritto nell'immaginario comune dello spettatore italiano. La cosa sorprendente è che i dati ci sono pervenuti in maniera trasversale prescindendo dalle fasce di età e dal sesso dei nostri interlocutori. Un ottimo segnale di popolarità direi. Hai visto la sentenza? E vai. Sono molto contenta. Milio, ora ci tenevo a dirti anche una cosa. Ora abbiamo scherzato, abbiamo chiacchierato.